Dobbiamo muoverci ora, abbiamo solo 30 secondi. Conoscete il piano? Eh, ragazzi? Che c'è? Si è buttato. Si è buttato? Eh, eh. D'accordo, uno per tutti. Fermo, fermo, fermo! Non è imparacaduta! Non me ne serve uno. Ho la mia tavola! Woohoo! Oh, è un vero sballo! Così non va! Non va! Sono fuori in onda! Un passaggio, fratello! Rallenta, Mickey! Preparati alla botta! Porta! 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 Preso! Tieni turno, Mickey! Ok! Agganciati! Dov'è, Raffi? Ok. Ok, puoi farcela. Puoi farcela. Che farebbe Vin Diesel? Nessun rimpianto! Nessuna paura! Nessun rimpianto! Nessuna paura! Nessun rimpianto! Nessuna paura! Ricago tutto, ho tanta paura! Non sta scendendo troppo velocemente! Raffi! Bella presa! La buona notizia è che avete i paracadute! Paracadute? La cattiva notizia è... Ok, sono venuti in Brasile per questo. È qualcosa interdimensionale a riportale. Beh, probabilmente è un nome un po' più tecnico, ma... Ragazzi? Oh, mamma. Ragazzi! Riportiamo di moda la cresta! Bella mossa! Ti credi divertente, eh? Vediamo quando riderai quando vi avremo spaccato la testa! Sì, è colpa mia. Mi sono fatto prendere. Sì, è colpa mia. Mi sono fatto prendere. Non c'è la capire. Ce l'ho! Ce l'ho! E questo lo prendo io! Non ce l'ho più! Tranquilli ragazzi, rimetti un assetto all'aereo! E non ce l'ha capito! Attenzione! Alcuni agenti potrebbero spostarsi durante il volo. Come procede là, Donnie? Ah! Va tutto alla grande! Splendidamente! Oh! Quanto payale sono attu- Non ce l'ho molto a meno! E non ce l'ho piuttosto che ti sia fano! Oh! Oh! Ah! 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 State tutti bene? Sì, sto bene. Sto bene! Dov'è? Dov'è, Raph? Terra! 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 Questo è imbarazzante. Diamoci dentro, Pello! Io ho preso! Io ho preso! Leo, no! Attento, Donnie! Arrivo! Preso! C'è l'ha, c'è l'ha, c'è l'ha! C'è l'ha, c'è l'ha! C'è l'ha, c'è l'ha! Grazie, amico. Il mio uomo. Ciao, tartarughe! Sono carini a salutarci. State attenti! Chi? Cosa? Ciao, tartarughe! Ciao, t'acpetto!